Convinto dalla serietà del Catania, l'uruguayano Alexis Rolin è arrivato in città per rinforzare la rosa dei difensori centrali. Dalle Olimpiadi di Londra al Massimino per completare un reparto che potrebbe diventare eccellente. È stato accompagnato dal segretario esecutivo del Nazionale de Montevideo, Guglielmo Pegna, che vediamo nelle immagini insieme al presidente Nino Pulvirenti e l'amministratore delegato Sergio Gasparin. Dice quello che gli ha colpito di più è la serietà, che è stata dimostrata, come sono andate le cose e soprattutto le persone che ha incontrato che sono altrettanto serie. Dopo una lunga trattativa dove il Catania ha lavorato sotto traccia come ha confermato lo stesso Gasparin, ha sottoscritto un contratto di cinque anni per da Manforte a Spolli, Le Grottaglie e Bellusci. Difensore col vizio del gol è già fisicamente pronto per essere inserito nel 4-3-3 di Maran, ma aspetta il trasferto internazionale per poter scendere in campo. Rolin è stato definito il nuovo Tiago Silva dell'Uruguay ed arriva a Catania per meno di 3 milioni e mezzo di euro. Il mio obiettivo è avere una buona temporada e fare un gran campionato. A favore di Maran la sua grande duttilità può essere adattato anche come esterno sinistro, ruolo in cui ha giocato in passato. Mercato in uscita. Andrea Catellani nella prossima stagione vestirà la maglia del Sassuolo. Il Catania ha comunicato di averlo ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione della compartecipazione a favore della società emiliana. Attendono notizie ricchiuti Moretti e Augustin e Lanzafame, Chiego e Paglia Lunga.